Oggi sono venuto qui principalmente perché volevo conoscere un sacco di persone che ho già conosciuto e ho avuto l'opportunità di conoscere online. Ritengo che la conferenza di oggi, Crypto Conference, sia il luogo perfetto per conoscere tutte quelle persone che sono nel settore delle criptovalute, di blockchain in generale, che solitamente vediamo nei social, nei gruppi Facebook, Twitter, LinkedIn, però che non abbiamo mai modo di toccare con mano o di vedere effettivamente. L'intervento è molto ben organizzato, interventi di spessore, di qualità, al taglio molto pragmatico, interventi anche molto freschi. Sono stata molto coinvolta dai vari speaker, l'organizzazione è veramente ottima. C'è stato, come devo dire, si è respirato una bella aria di network, molto soddisfatta. Consiglierei la partecipazione anche perché abbiamo visto alcuni appelli, insomma non soltanto alla conoscenza di questo settore dal punto di vista speculativo, ma la conoscenza di questo settore anche dal punto di vista divulgativo. Quindi, visto che sono settori che per loro natura evolvono in modo anche veloce, un aggiornamento continuo può essere la chiave per essere al passo, sapersi muovere correttamente in questo ambito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.